La macchina organizzativa della regione siciliana sta funzionando alla perfezione, l'esperienza dell'open day che abbiamo voluto avviare nella nostra isola ha dato in questo fine settimana oltre 70.000 vaccinati di cui 25.000 con AstraZeneca, segno evidente che i cittadini hanno superato la iniziale diffidenza e hanno compreso che l'unica strada da imboccare per uscire da questa terribile esperienza è appunto il vaccino. Valutiamo se al prossimo fine settimana vada riproposta la iniziativa ma intanto voglio davvero ringraziare tutto il personale sanitario e infermieristico del volontariato che ha consentito questo straordinario successo. Ormai dobbiamo andare avanti su questa strada, speriamo che da Roma le dosi promesse arrivino per liberarci definitivamente da questa tragica e difficile esperienza. Grazie a tutti.